Due giorni fa mi ha chiamato l'ammiraglio Blair. È stato contattato dalla vedova del professore. Chiunque abbia ucciso suo marito, crede che Ghost sia ancora in casa sua. Potrebbe essere vero, ma forse non lo è. A Zurigo è stata trovata una cassetta di sicurezza intestata a Plummer e io accompagnerò la signora Plummer a recuperarne il contenuto. Speriamo di trovarci il programma Ghost. Nel frattempo, qualcuno deve badare ai suoi figli. E qui entri in gioco tu. Mentre sei lì, approfittane per cercare anche il programma. Lei deve essere tenente Wolf. L'ammiraglio mi aveva avvertita. Entri pure, le presento la squadra. Venga! Ragazzi, muovete le chiappe e scendete a salutare. Allora, Lulu l'ha già conosciuta. Loro sono Zoe, Seth e Peter. Ragazzi, lui è il tenente Wolf, la persona che resterà con voi mentre sarò via. Ciao! Ciao! Oh, e loro sono Helga e Tyler. Signora, bambino. Che bel vestito! Grazie. Ho appuntamento con il macellaio stasera e voglio essere carina. Maschina da površtene. Oh, oh, oh.